Tutte le tecnologie attualmente presenti sulle moto moderne sarebbero impensabili per i motociclisti di un decennio fa, ma l'ultima aggiunta di Yamaha potrebbe cambiare il gioco, non solo aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza, ma aprendo le porte a un ripensamento sulla geometria dello sterzo. Il servosterzo elettrico IPS di Yamaha verrà utilizzato per la prima volta su macchine da lavoro al campionato di motocross al Japan di quest'anno, ma ci sono piani per utilizzare il sistema su una varietà di moto. È una configurazione straordinariamente compatta, ma il fatto che sia controllata da un computer significa che c'è un enorme potenziale per aumentare la sua gamma di abilità. Potresti chiederti perché vale la pena considerare anche il servosterzo, dopo tutto, nella guida di tutti i giorni una configurazione convenzionale non richiede bicipiti sforgenti. Per l'uso del motocross, tuttavia, ha più senso quell'elemento più semplice dell'idea, tutto ciò che può ridurre l'affaticamento del ciclista sarà un vantaggio. Ma ridurre lo sforzo necessario per girare il manubrio è solo un elemento del sistema. Funge anche da ammortizzatore di sterzo attivo, contrastando le forze esterne in modo da non rimanere a lottare contro il manubrio per mantenerle puntate nella direzione scelta. Ancora una volta, il motocross è un serio test dell'idea, ma potrebbe essere utile su moto da strada o altri piloti. Il servosterzo stesso adotta la tecnologia del sensore di coppia magnetostrittivo delle biciclette servoassistite per capire cosa vuoi che faccia. Sulle e-bike questi sensori di coppia vengono utilizzati per dire quando stai pedalando e quanto duramente, inviando quei dati a un computer di controllo che interpreta la quantità di assistenza elettrica necessaria. Qui fa lo stesso, ma sullo sterzo della moto. Il fatto che l'EPS possa distinguere tra gli input intenzionali del ciclista e le influenze esterne indesiderate significa che può aggiungere stabilità senza compromettere la reattività. Le possibilità che il sistema apre sono vaste. La stabilità artificiale che promette significa che le moto potrebbero essere progettate con angoli di sterzo più ripidi e meno trail, rendendo lo sterzo più nitido senza incorrere in instabilità e tanklapper. Più o meno allo stesso modo in cui i moderni aerei da combattimento sono intrissecamente instabili al punto da non poter essere pilotati senza l'assistenza del computer, una futura motocicletta potrebbe essere realizzata con una geometria dello sterzo che non potrebbe essere immaginata senza l'EPS. Allo stesso modo, è possibile adottare una maggiore scia. che normalmente renderebbe lo sterzo troppo pesante, utilizzando il servoassistenza per renderlo leggero. Molto semplicemente, il sistema potrebbe rimuovere i ceppi attualmente posti sui designer dal compromesso tra stabilità e reattività. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ciao a tutti! Ci vediamo nel prossimo video!